il nostro viaggio sul territorio in tema di ristorazione andiamo a Maenza in provincia di Latina presso la contrada Farneto e andiamo a conoscere il ristorante Le Farneta ce lo presenta Arianna Ettore. Buonasera Arianna. Buonasera. Allora Le Farneta ristorazione quando nasce? Allora il ristorante che nasce nel 1980 ma sono nove anni che l'abbiamo preso in gestione io e mia madre. Oggi stiamo insieme. Benissimo. Allora raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori che tipo di cucina presenta. Allora noi abbiamo una cucina tipica locale specialità di carne alla brace. C'è a settembre il 22 settembre la tradizionale fiera e presentiamo la carne di capra al suco in umido. Quindi invitiamo. Certo è un piatto tipico della zona. Sì e in più di questi periodi facciamo carciofi, asparagi, tutte cose locali insomma. Molto bene quindi c'è anche un come dire una cucina dei piatti che vanno a seconda delle stagioni che cambiano a seconda delle stagioni. Sì. Benissimo. Pecora alla brace e tutto quanto insomma. Benissimo. Oh per quanto riguarda quella che è un po' la location, il posto. Che cosa possiamo raccontare? Allora abbiamo due sale, una sala più piccolina dove è di vita sia ristorazione ma più che altro per pizzeria. Facciamo una pizza al forno a legna e nella sala c'è la capienza di 50 e 60 posti. Benissimo. Poi abbiamo la sala banchetti che sono una capienza di 150 e 60 posti. Quindi quello per feste e eventi? Sì, feste e eventi. E facciamo comunioni, battesime, cerimonie insomma. Certo. E abbiamo anche un ampio prato giardino verde e un gazebo con una piscina dove gli facciamo aperitivi di benvenuto per sempre le cerimonie insomma. Abbiamo un ampio parcheggio. Quindi insomma è anche una location ideale, perfetta anche per questa stagione, no? Da aprile in poi sappiamo i matrimoni, i battesimi, ma qua in generale si sta bene fuori, no? Sì, lavoriamo parecchio con banchetti, insomma è una bella location insomma. Perfetto, perfetto. Quindi abbiamo detto da voi possiamo trovare i piatti tipici della zona, ci sono degli evergreen, cioè dei piatti che troviamo sempre, come i primi, non so. fettuccine, sorsa preti con funghi porcini, tartufo, anche una semplice fettuccina a ragù, delle lasagne, cannelloni che sono fatte rigorosamente in casa da mia madre. E' tua mamma la vuoca? Sì. Ah, benissimo. Tu che fai? Gestisci la sala? Io faccio cameriera, gestisco la sala e anche addobbo delle tavole insomma, quanto nei banchetti. Perfetto. Allora, a questo punto Arianna, non resta che informare, che ci ascolta, come e quando venirvi a trovare? Guarda, noi siamo aperti tutti i giorni e apriamo la mattina alle sei e mezza il bar, perché abbiamo anche un bar dove facciamo le colazioni e abbiamo anche un punto Sisal per pagamenti, ricariche, pagamenti di coltite. Questo sempre all'interno delle farmie? Sì, 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 è un bar, ristorante, pizzeria, tutto insieme insomma. e quindi apriamo alle sei e mezza e chiudiamo per le nove, dipende, nove, dieci e siamo chiusi il martedì. Benissimo, pranzo e cena. Pranzo e cena per il resto. Per quanto riguarda il resto, il resto immagino ovviamente per quanto riguarda il weekend in generale, ma per il weekend sia consigliabile insomma la prenotazione. Pranzo, sì, consigliabile la prenotazione. Perfetto, allora ci troviamo a Contrada Farneto che è una zona insomma. È una Contrada, una zona che si trova in località Maenza, in provincia di Latina, il paese. Il ristorante si chiama proprio Le Farneta perché magari ci sono altre attività, ma il nostro è proprio, si chiama Ristorante Le Farneta. Ecco, se volete essere proprio sicuri basta scrivere ad esempio su Facebook Le Farneta bar Ristorante Pizzeria con questa dicitura. Sì, lì troveranno la nostra pagina Facebook dove mettiamo anche le foto dei nostri eventi e ci possono contattare anche lì, ci sono i contatti telefonici per qualsiasi chiarimento, dubbio possono chiamare. Benissimo Arianna, senti per concludere salutiamo mamma, come si chiama? Santina. Ciao Santina, ciao anche da By Night Roma, grazie Arianna. Prego, buonasera.